Dobbiamo comprendere che non possiamo... No, no, ascoltatemi bene, non possiamo far pagare alle persone il nostro amore. Non possiamo escogitare dei trucchetti per far loro pagare il nostro amore. Beh, se tu sarai gentile con me, io ti amerò. Se sarai buono con me, io sarò buono con te. Se farei cose per me, io farò cose per te. Questo non è l'amore agape di Dio. Sarà un tipo di amore terreno, ma non è il tipo di amore che Dio ci chiama a praticare. Il tipo di amore che Dio ci chiama a praticare è qualcosa che possiamo assolutamente fare di proposito. Non è così importante quello che pensiamo di qualcuno, ma vi assicuro che se ci prefiggeremo di rivestirci di amore e di cominciare a metterlo in pratica, prima o poi i nostri sentimenti si adegueranno. Alcuni di voi forse stanno per divorziare, ma se solo tornaste a casa e cominciaste a mostrare intenzionalmente amore al vostro coniuge, pur non avendone voglia, potreste finire per assistere a un grande cambiamento nella vostra vita. dobbiamo esercitare, proclamare, trasudare amore. Dio è amore e Lui è in noi. Dio, Dio, muovi le montagne, potente sei mio Signor, so che mi sa... Come si svolge con voi, perché ci sei sinceramente amore. È un po' di lui, ma se non dice che sia mio Signor, so che mi sa... Noi amore. Noi amore. Noi amore.